Sì, non puoi sbagliare, ci sono due porti, lei è stata la minchia, questa qua è la prima porta, e questa qua è la seconda, e tu che ci fai, non te lo hai detto, dai, non bloccare lo scattolo, allora, come va? Chi da sinistra o chi da destra? Tu lei è andato in mezzo, sì, la sinistra, sicuro, non è che ci sono due con un re che ci fanno la piaccia in destra, perché lei già guarda quanto non è ciuffo, lei è giusto, non è grafico, allora, noi sappiamo che ci sono due piccioni, che non abbiamo chiesto, noi abbiamo messo il soggiorno, mamma, che ti stava a letto, e mamma, che te te lo bagno, la cestatura, allora, Questa casa è super liquidata, che ci pulisce le canna ruzza, le corna, e le minchia una casetta, poi qui ci sono, la scupezza, la scupezza, questa casa è la piaccia, per dare le capiglie che ci sono in terra, capito? Hai anche una scatola, piaccia, 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 questa casa è la scatola di beneficenza, Pregiato, ora silenzio, perché ci vuole molta cautela, più la scatola, piaccia, 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 e non con le pedo, con le mani, si sta per aprire si sta per aprire la storia. aspetta aspetta un'appidata faccio un'appidata forte piano 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 non è che mi chiesti a fare non è che 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 ecco il posto del delitto 2 2 unice l'accampamento su mamma ne aspetta che venga a fare le battezze costante ma che morte che stava l'avevo esercizzi non è il titolo 2 3 3 3 3 4 4 5 testa che dice un muoto 4 spuzza spuzza è da poco da me che vado perché non ci sono nemmeno per me cazzo questa cosa se faccio bagnomarie ma sono piccino se posso ma non scantare si trova ma sono gialle sull'inclare sono piccina di becchini e se non erano il gioco certe nuovamente tanti martesolo a te lo posto e qua c'è l'agenza di solito a me ci piace questo mondo l'inclare su una scelta spesco spesco alla mappigliare ancora che fanno finuto aspetti allora come si giunga come si giunga questo è un gruppo bravo bravo aspetti ciò più vicini vi vedete guarda vedete questo questo qua si è secco aspetti aspetti la mappigliare il nostro compito piani ciao cosa la pistola questa è la pistola con cui l'abbiamo bagnato per disinfettare ora dobbiamo prendere e ci serve la scuola aspettata aspetti prima prima apri quella con te la mente con cautela vedete mentre la apre questa è la scuola l'aperta 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 l'amore l'aperta 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 questo è il vero che è presente per domanda la testa di media io non conosco biglietro posso attaccare la cosa l'aperta a tutto il pan pregare un'altra cosa come giusta la canzone l'unica per la paura guardatevi c'è la paura fa brutti scherzi guardate minchia picciò ora dobbiamo dobbiamo togliere il sasso che davanti allora la inquadriamo perfettamente minchia te puzza picciò qua c'è il sasso porca troia la pasta tendina leva la tendina la togli sta tendina questo è un po' generale non guarda guardate sotto in date il primo dobbiamo togliere se ciò poterlo ci deve essere coltello dai giuseppe te la tendina togli vedete come pur se non lo è lo viste non dobbiamo trattare chiaro non è io un momento può fare sta tendina un po' da parte a prima che parla tendina a togliamo il sasso intanto mettiamo con la scuola foto vede loro le dobbiamo troppo tendo perché i piccioni sono sono gli impeccioni gli impeccioni vedete questa la scatola beh venga beccioni aspetta la mamma venga adesso si freddo qui vabbè lo stacco sai addio addio hai piaciato hai piaciato no ciutò è più lo lo contrattavo vabbè vabbè apriare la scatola ma apriare la scatola eeeh ci ha dovuto riparare la lavazione dove è comodo guardate guardate aspettate 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 ma c'è un minchioricapè, un minchioricapè non metti il minchioricapè guardate i bici ma c'è un minchioricapè come fanno buttare il minchioricapè come fanno buttare il minchioricapè no vabbè che fai di scante no mi scanto che riesce a scrivere che dove sa francesco ahahah piccolo dobbiamo molta cautela però non è scappare davvero ahahah che ci sta facendo eh che minchioricapè scante ah dai dobbiamo allargare all'ardo apri questa apri la porta porca troia dai stai cagando qui eh che minchioricapè eh che minchioricapè che minchioricapè che minchioricapè che minchioricapè ahahah 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 mi vede qua ahahah dai vado signora pede di chiudo dobbiamo allargli ancora più c'è la ventura e allalto chissà dove no chissà torna a torna gira tira dai tuoi panno non dovresti su perfetto e ancora possiamo vederlo di poco bene gli azioni in fila che ne sono che ne sono senti la tempola non è qualcosa che bello è capito ahah U75